Ho chiesto di parlare del deputato Coinn, nella facoltà. Grazie, Presidente. Con questo ammendamento si propone di eliminare l'obbligo di applicazione del Green Pass nei ristoranti. Questo ammendamento è un ammendamento che noi sosterremo. Eliminare l'obbligo, innanzitutto, perché pensare di eliminare l'obbligo, pensare che quei ristoranti possano essere un luogo dove il contagio si propaghi in modo diverso rispetto agli altri luoghi, non ha assolutamente nessun tipo di fondamento. A tutta questa riflessione ci viene in enorme soccorso, in enorme aiuto, in enorme supporto, quello che sta accadendo nei ristoranti e degli alberghi, dove, per potervi accedere, non è necessario l'utilizzo e l'esibizione da parte del cliente del Green Pass. E non è nemmeno necessario il Green Pass per accedere agli alberghi stessi. Quindi, questa è una categoria che è stata penalizzata fortemente negli ultimi 18 mesi. Ai ristoratori noi abbiamo chiesto prima di ridurre le capienze, poi di mantenere distanze di sicurezza, poi abbiamo chiesto di mettere dei distanziatori e dei separatori tra gli avventori dei locali. Infine, abbiamo chiesto a loro di fare un lavoro che non è quello che il ristoratore deve fare, cioè di sostituirsi allo Stato in quelli che sono i controlli che in realtà dovrebbe fare lo Stato per verificare se queste persone che entrano abbiano o non abbiano o meno il Green Pass. Le contraddizioni di questo provvedimento dell'utilizzo sul Green Pass sono le più ampie, perché basta pensare, mi è capitato recentemente, di passare davanti ad una chiesa, di volerla visitare e di non poterci entrare perché serviva il Green Pass. Green Pass che io ho perché sono un guarito, ma che non intendo scaricare perché non ne condivido assolutamente l'impianto così come è stato costruito. Però, se fossi entrato due ore dopo durante la funzione, non ci sarebbe stato nessun problema. Ho preso dei piccoli autobus la settimana scorsa in una località turistica del Sud Italia di circa 14 o 15 metri quadri dove facevano entrare 25 persone e lì l'obbligo del Green Pass non c'era. O cominciamo a ragionare in maniera corretta o se no tanto vale che questo provvedimento cominciamo a fare delle riflessioni assolutamente serie. Per quanto riguarda gli emendamenti in questione stiamo parlando di ristoratori, stiamo parlando di gente che contribuisce con il loro lavoro in maniera significativa al gettito fiscale di questo Paese, stiamo parlando di una categoria che è stata ampiamente penalizzata, facciamo un gesto di responsabilità e lasciamoli lavorare. Grazie.